Finalmente ci siamo, manca pochissimo al lancio degli ETF Ethereum, ma non è di questo che ci occuperemo in questo video. L'abbiamo parlato in lungo e largo, ma ci sono altri due dati, secondo noi molto più interessanti, che ci raccontano appunto quello che sta succedendo nel mondo del secondo asset crypto per capitalizzazione di mercato. Guarderemo l'andamento dello staking, guarderemo alla tokenomics di Ethereum per capire che aria tira sul mercato pochi giorni da quella che sarà una rivoluzione. Tra pochi secondi la sigla, intanto, se non l'hai già fatto, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Una situazione potenzialmente ideale, in realtà di movimenti su Ethereum da quando c'è stata notizia il 23 maggio dell'arrivo ufficiale degli ETF, negli Stati Uniti non ci sono stati. Che cos'è successo? In realtà il mercato ha vissuto un giugno non esattamente brillante e quindi Ethereum non si è potuto godere uno sprint che sarebbe più che atteso, più che ragionevole di fronte a una notizia del genere. Prima però che arrivino appunto in versione definitiva gli ETF che inizino a essere scambiati sulle borse USA, c'è tempo per fermarsi un attimo a guardare alcuni dati. Il primo che mi interessa sottoporvi è quello che riguarda gli Ethereum messi in staking, sia direttamente sia tramite piattaforme di liquid staking come Lido oppure Rocket Pool. Siamo molto vicini ai massimi storici. C'è stata una piccola flessione legata principalmente al mese di giugno, ma il dato che ne emerge è che in realtà siano pochi coloro i quali probabilmente sono in attesa di liquidare le loro posizioni, grandi perché poi ci vengono 32 Ethereum, a meno che non si passi da liquid staking, su Ethereum effettive per passare all'ETF. Lo dico in modo più semplice, qualcuno crede che possa accadere quello che abbiamo visto accadere almeno in parte su Bitcoin. Vabbè, io sono un investitore di lungo periodo, ho tanti Bitcoin, e decido di liquidare le mie posizioni long per poi entrare all'ETF. Questo perché? Perché l'ETF ha dei prezzi relativamente bassi, mi garantisce la custodia, e se voglio essere esposto soltanto alla questione finanziaria, allora potrebbe essere conveniente. Almeno a guardare quello che è successo fino adesso, questo movimento con Ethereum non si sta granché preparando. Certo, l'obiezione più naturale a questo ragionamento è che uscire da uno staking di Ethereum non impiega così tanto tempo e quindi che dovremmo fare i conti con la situazione effettiva una volta che questi prodotti verranno lanciati. Però il dato c'è, siamo vicini ai massimi storici e sono in tanti che continuano a fare staking per portarsi a casa delle percentuali che non saranno forse eccellenti, però il mare è composto da un'infinità di gocce. C'è un'altra questione che riguarda l'ETF Ethereum e lo staking. Gli ETF Ethereum lanciati negli Stati Uniti non avranno lo staking, quindi chi deciderà di passare all'ETF dalle sue posizioni long, che magari appunto ai staking, sarà costretto a rinunciare a una percentuale vicina, credo al 3%. Questa è una cosa che renderà questo tipo di passaggio, che abbiamo visto ma neanche troppo con Bitcoin, molto meno attrattivo. Quindi il dato è questo, probabilmente la domanda di ETF Ethereum sarà quasi completamente nuova e non sarà costituita dal passaggio di vecchi investitori da posizioni grandi e long su Ethereum all'ETF. È un dato interessante, ed è un dato interessante anche perché la domanda nuova è quella poi che esercita effettivamente le pressioni sul prezzo dell'asset. Non è l'unica questione però interessante che possiamo desumere dall'analisi di quanto sta accadendo in Chain. Secondo punto, la quantità totale di circolante di Ethereum, della quale adesso parliamo subito con il grafico davanti agli occhi. La seconda è una questione forse più da specialisti che si incrocia con tantissime narrative che sono venute fuori nel mondo dell'Ethereum degli ultimi anni, ed è quella dell'ultra sound money. Il ragionamento è relativamente semplice. Dopo il merge, dopo il passaggio alla proof of stake, il nuovo meccanismo di emissione di Ethereum prevede da un lato l'emissione di nuovi token per la ricompensa di chi fa staking e dall'altro una parte di Ethereum e delle commissioni che vengono invece distrutti per sempre. Adesso, senza entrare nel tecnico perché non è questa la sede, poi dedicheremo un altro video al funzionamento di Ethereum. Quando ci sono tante commissioni da pagare, quindi c'è tanto traffico e quindi c'è tanta attenzione per il network, e ci sono tante persone che vogliono utilizzarlo, tendenzialmente la supply, l'offerta totale di Ethereum di nuova generazione scende, ovvero sono più quelli che si bruciano rispetto a quelli di nuova creazione. Questa situazione però risente anche di novità tecnologiche del protocollo che possono variare le commissioni da pagare. Caso esempio, a marzo l'arrivo della nuova gestione dei blob che arrivano delle IR2, che adesso vengono messi da un'altra parte, anche qui passateci il termine poco tecnico, e che quindi ha abbassato le commissioni e che quindi ha abbassato la quantità di Ethereum che vengono bruciati. Qui, con il grafico, è evidente quello che è successo da marzo in avanti. Si è tornati verso l'alto, si è tornati dunque a un saldo positivo tra Ethereum di nuova generazione, di nuova creazione, e Ethereum che invece arrivano, vengono bruciati, e questo ha aumentato la quantità di circolante. Prima però di mettermi le mani tra i capelli e dire, ottio no, siamo perduti perché Ethereum è diventato super inflazionistico, vi invito a guardare il numero a sinistra del grafico. In realtà non c'è stata granché emissione di Ethereum, cioè si è cresciuta la quantità di circolante, ma per volumi, per quantità che sono in realtà molto ridotte e che non possono cambiare granché l'offerta di Ethereum complessivo. Su questa offerta arriverà poi una domanda che tutti si aspettano essere molto molto importante per quantità, che arriverà dagli ETF. Quindi a noi piacerebbe togliere un po', sgombrare il campo da questa preoccupazione, anche perché è da marzo che la supply di Ethereum continua a crescere, senza che abbia avuto degli effetti considerevoli sul prezzo. Rimaniamo noi come CryptoVoluta.it fortemente bullish sui prossimi mesi di questo asset, nonostante forse il lancio durante luglio non sia il meglio, in tanti sono già in vacanza, non solo in Italia, non è vero che solo noi italiani facciamo le vacanze, e quindi in una fase di mercato che forse si presta poco agli entusiasmi. Tuttavia si tratta di un lancio storico, sia per Ethereum sia per il resto del mondo cripto, che a nostro avviso avrà degli impatti importanti. Con l'analisi di questi due grafici di oggi, ci sentiamo inoltre di aver sgombrato il campo da due polemiche che circolano almeno ai piani medio-alti dei social e che ti aiuteranno ad avere maggiore contezza della situazione. Chiudiamo come sempre il video brevemente qui. Ti invito di nuovo a iscriverti al canale e attivare le notifiche per ricevere segnalazioni di quando usciranno nuovi contenuti e per darci una mano in questa nuova impresa, che è quella di portare contenuti gratuiti anche su YouTube. Un caro saluto a te che mi hai seguito e alla prossima!